ciao a tutti oggi prepareremo il budino al pistacchio il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 8 ore di riposo in frigo ingredienti sono latte zucchero amido di mais crema di pistacchi e granella di pistacchi per decorare diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte lo zucchero la crema di pistacchi e l'amido di mais ed azionare il baby per 10 minuti 90 gradi velocità 4 versare i stampini monoporzione coprire con pellicola trasparente riporre in frigo per almeno otto ore budino al pistacchio grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti